I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno arrestato Giovanni Fabiano, 58 anni, di Melito Portosalvo, in provincia di Reggio Calabria, accusato di essere un corriere della droga e sequestrato oltre tre chili di cocaina nascosti in un'autovettura fermata nei pressi dello svincolo autostradale di Buonfornello in direzione Palermo. Nel corso di un controllo in autostrada una pattuglia del nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo ha fermato l'auto e identificato il conducente. Durante la perquisizione, grazie all'intervento del cane antidroga Elisir, i finanzieri hanno trovato tre panetti di cocaina nascosti in un doppio fondo ricavato nel vano airbag del lato passeggero, accessibile attraverso un'apertura meccanica. Fabiano è stato trasferito presso la casa circondariale Antonino Burrafato di Termini Merese con il jeep che ha poi convalidato l'arresto e disposto per lui il carcere.